ciao ti succede di essere più positiva in primavera o ci sono dei momenti della vita in cui sei semplicemente molto positiva hai fatto una dieta che funziona hai trovato una disciplina che funziona hai cominciato a frequentare un corso che funziona hai conosciuto delle persone nuove che funzionano per te e ti svegli un giorno dopo che hai dormito bene per dopo tanti tanti mesi oppure il contrario se sei se sei una persona che ha dormito molto perché è stata in una situazione difficile poi il modo di fuggire da quella situazione per te e dormire tanto finalmente ti svegli un giorno e dormito pochissimo ti senti ricaricata finalmente le giornate sono di nuovo lunghe perché dormi poco e sei più produttiva e sei più positiva e cominci di nuovo a essere felice per le piccole cose quando sei così positiva è come se arrivasse la primavera sia che la primavera sia sul calendario o sia solo nel tuo cuore ti succede in questi momenti se sei se sei una donna che è stata male per un lungo periodo a causa di una relazione strana in cui si è trovata ti succede in questo periodo positivo di ripensare di nuovo all'uomo con cui sei stata alla persona che tu quella volta hai capito che ti ha fatto male mentre adesso che sei così positiva è come se quell'idea che lui ti abbia fatto male o abbia contribuito comunque in una super larga misura al fatto che tu ti sia sentita così male e che tu sia stata così debilitata adesso quell'idea è come se sfumasse perché sei positiva pensi di lui le cose positive ti ricordi momenti positivi e pensi che forse hai gestito male la situazione che lui effettivamente tu ti ricordi bene anche adesso se hai occasione di vederlo o di vedere qualche post che mette su instagram o su facebook ti rendi conto che lui è una persona che ha successo tu vedi in lui le cose buone e adesso in questo periodo positivo vorresti di nuovo collaborare o lo vorresti sentire o non ti sembra che sia non ti sembra che ci sia niente di male o di pericoloso nel sentirlo e allora quando noi siamo positive è normale ed è anche giusto che partano dei dei film positivi nella nostra mente delle fantasie positive se è veramente primavera forse si sveglia anche il sistema ormonale che se si è stata male per più mesi addirittura più anni è molto probabile che sia stato assopito perché è una persona che è in difficoltà o in pericolo di vita o si percepisce in pericolo e deve essere sempre sull'attenti non è che prova il piacere di vivere o il desiderio di fondersi con una persona mentre poi quando si sta meglio finalmente anche il sistema ormonale riparte ci si eccita per le cose si sente la primavera proprio sia voglia di relazionarsi proprio intimamente con qualcuno allora quando noi ci facciamo questi film mentali questi questi cortometraggi queste scene che secondo me sono a parte è naturale farlo ma sono anche utili perché io dico sempre che queste questi film che ci facciamo positivi o anche negativi sono come un trailer di quello che sta per succedere più volte tu vedi lo stesso trailer nella tua mente una cosa che ti inventi tu per esempio una cosa di come tu pensi che andranno le situazioni più crei quella realtà che dopo sarà il film che tu andrai non a vedere in questo caso perché non sarà il cinema ma a vivere perché sarà la tua vita quindi all'inizio quello che ci immaginiamo è solo un concentrato di cose che vorremmo oppure che ci aspettiamo però quando capiamo che questa cosa funziona cominciamo a pensare solo le cose che vorremmo e questo queste cose che vorremmo sono come un trailer c'è dei piccoli spezzoni belli piacevoli che poi diventerà una cosa più lunga tipo la realtà di domani o del prossimo mese o del prossimo anno dipende quanto ci metterà realizzarsi sì voglio fare con una piccola parentesi per chi segue per chi studia la legge dell'attrazione e chi segue adesso queste questi documentari film i libri che lo spiegano è vero che noi otteniamo quello che desideriamo nel senso quello a cui diamo attenzione dico io perché se lo desideri non basta se lo desideri e poi dai attenzione a tutte le sfighe che ti succedono allora in realtà stai attirando quello perché è l'attenzione quella che conta la maggior parte c'è la percentuale di attenzione che tu dai a una cosa se tu riesci a dare il cento per cento per esempio facciamo in teoria di attenzione a qualcosa che vuoi quel qualcosa si realizza a patto che tu segui la strada perché quando tu pensi a una cosa tu in realtà crei la strada e se noi fossimo sempre rilassate sempre nel momento presente sempre segui a seguire l'intuito l'intuizione allora sì che si realizzerebbe sempre nel modo più breve possibile ma se noi abbiamo delle resistenze se noi non seguiamo quello che io chiamo i segni se noi non sentiamo le seguiamo le indicazioni allora magari ci arriveremo sì ci arriveremo però ci metteremo molto più tempo e avremo bisogno di molte più lezioni da imparare nel frattempo bene comunque stavamo parlando di cosa succede quando in un momento positivo molto positivo in cui sei molto di buon umore ti naturalmente ti viene da immaginare delle scene belle e quando tu immagini un uomo ti immagini di stare insieme con un uomo di andare da qualche parte o semplicemente di essere sì accompagnata da qualcuno o di condividere la vita con qualcuno è normale che nella tua fantasia nel tuo trailer appunto il ruolo di questo protagonista uomo prenda il volto del tuo ultimo partner che se stiamo ascoltando questi video forse era una persona abusiva e quindi una persona con la quale non stavi bene e che è molto probabile che non che se tu segui segni se tu immagini una realtà perfetta e dove stai bene dove c'è affetto e dove si ci si comprende e si collabora è probabile che l'universo non ti porti verso quella persona del passato che non sapeva farlo ti porterà verso persone nuove solo che essendo nuove non le conosci e allora è difficile mettere anche immaginarsi qualcosa con un viso che di qualcuno che devi appena immaginarlo appunto allora automaticamente quella immagine viene riempita appunto dal dall'ultimo uomo per cui abbiamo provato affetto se tu ci ripensi la prima volta che l'hai visto proprio questo ultimo partner che avevi la prima volta che l'hai visto in assoluto non ti sì eri in questa situazione in cui sei adesso non lo conoscevi e dopo tutto quello affetto che hai provato per lui tutto quella voglia di stare con lui tutto quello che di lui ti è piaciuto è tutto quello che adesso è così familiare se ci pensi il volto è familiare lui il suo profumo la sua energia tutto quello che forse ancora ti manca un po soprattutto adesso che sei di di nuovo un po più carica di energia un po più positiva e e tutte quelle cose in realtà la prima volta che l'hai visto non ti dicevano nulla perché non eri ancora affezionata a quel volto non eri ancora affezionata a quel profumo e allora questo lo sto dicendo perché sappi che quando conoscerai una persona nuova certamente adesso pensarci non ti dice molto non ti entusiasma perché semplicemente non hai ancora conosciuto quel volto non hai ancora conosciuto quel profumo non hai ancora conosciuto quella personalità non hai ancora instaurato quel legame quel legame energetico che si instaura tra le persone che si vogliono bene o che convivono e che si crea crea complicità o crea crea questo legame i legami sono importanti crea questa sensazione di appartenenza è anche la sensazione che conosci quella persona quindi ti dà sicurezza no è come se quella persona facesse parte della tua realtà perché la conosci come conosci le tue cose la tua casa e allora è sicuramente molto più si ci fa piacere coltivare delle relazioni in profondità quindi più si va in profondità più questa cosa questa relazione ci dà sicurezza ci dà soddisfazione ci riempie di emozioni e ci fa sentire partecipi alla vita insieme anche se c'è stato dell'abuso perché questa la profondità che per esempio è diversa mentre quando tu incontri una persona nuova può essere la persona più splendida del mondo ma il fatto che tra di voi non ci sia questa profondità questa appunto il conoscersi questo aver condiviso insieme tante esperienze allora questa quella persona finché non si instaura un po di questo rapporto finché non si comincia a approfondire questa persona e così non ci dice niente quindi non c'è entusiasma quindi non possiamo immaginarcela in un trailer che ci dia veramente soddisfazione e che ci dia veramente l'entusiasmo di volerlo vivere allora io volevo solo ricordarti se sei in questa situazione in cui non ti sembrerà niente di pericoloso scrivergli un messaggio oppure rispondere a uno dei suoi messaggi che se usi il no contact mentale la mia tecnica del no contact mentale li hai sempre risposto ai messaggi però in modo molto breve molto sterile molto corto molto gentile e molto cioè che una cosa che finisca subito breve 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 e allora adesso potrebbe succedere che cali un po la guardia e lui ti scrive il solito messaggio ogni due settimane una volta al mese non so in che modalità sei tu oppure ti arriva anche se sei in no contact ti arriva un messaggio o una telefonata che non ti aspetti da un altro numero ecco dopo mesi allora quando sei così positiva potresti non avere più la guardia alta perché forse non ti ricordi che tu sei quando sei energica e positiva a volte forse sei spietatamente positiva cosa significa spietatamente positiva significa che ti sei che hai imparato a dover essere positiva per sopravvivere a vedere il positivo e questo è molto positivo appunto è una cosa buona ma vedi più positivo nelle altre persone e ti dimentichi di vedere che c'è anche del positivo da proteggere in te da coltivare in te da coltivare forse lo sai quando sei da sola però appena sei vicino delle altre persone se sei spietatamente positiva e se sei una donna che valida più gli altri di te stessa e allora queste due cose insieme ti faranno occuparti degli altri investire il tuo tempo negli altri positiva come sei pensando che loro sono splendidi splendidi super hanno super valore e che coglieranno tutto quello che tu gli darai e quello coltiveranno e che tutto l'aiuto che tu gli dai tu vedi qualcuno in difficoltà lo aiuti investi tutto il pomeriggio per aiutarlo e poi magari di quella cosa lui può anche non far niente tu invece questo non lo pensi perché sei spietatamente positiva significa positiva verso l'altro spietata verso te stessa allora finché non si guarisce finché non si guarisce è probabile che in un momento in cui stiamo veramente bene e stiamo veramente bene grazie al nostro lavoro di no contact mentale se hai fatto anche quello che si chiama no contact chiamiamolo fisico anche il no contact fisico al lavoro che hai fatto su te stessa perché hai cominciato a seguire una dieta perché hai cominciato a seguire questi video a riflettere sulle situazioni fare esercizi scrivere un diario e alla fine tirarti fuori da quella situazione grazie a quella disciplina adesso è energia e adesso forse perché sei positiva energica ti dimentichi che questo è grazie al lavoro che hai fatto perché ti sei fatta maltrattare perché non avevi i confini quindi adesso secondo me il lavoro bisogna sempre tenere presente che bisogna continuare a rafforzare o a costruire i confini e allora volevo ricordarti con questo video questa cosa di che forse hai ancora la tendenza di essere spietatamente positiva e di semplicemente controllare bene quando interagisci ancora con queste persone del passato io dico sempre al plurale perché secondo me se sei una persona o siamo persone che abbiamo in passato amato tanto gli altri e nello stesso momento poco noi stesse almeno a me è successo così tutte le persone con cui ho legato rapporti erano tutte le persone che si approfittavano del mio tempo ma è normale perché questo è una compensazione energetica se io do tanta attenzione agli altri e non penso di meritarla incontrerò quelli che vogliono e pretendono tanta attenzione e non hanno intenzione di darti niente in cambio così siamo d'accordo e io ho notato che le amiche che avevo da quando ero piccola e quando ero piccola erano i miei genitori i miei principali antagonisti chiamiamoli adesso quelli dall'altra parte dell'equilibrio quelli più aggressivi e io ero da questa parte quella che validava loro doveva ascoltare loro loro avevano sempre ragione quello che sentivo io o dicevo io o anche avevo visto io magari dicevo ho visto questa cosa mi dicevano ma figurati no non è mi dicevano ma non è vero per esempio quello che dicevo anche quello che vedevo io non era mai validato e allora quella volta io legavo con amiche che erano simili a me perché nell'amica l'amica non era importante non cercavo l'autorità nell'amica ma cercavo quando sei piccolo trovi qualcuno che ti assomiglia poi invece quelle amiche tipo le compagne di scuola per esempio le ho tutte perse di vista anche forse perché erano facevano parte della mia realtà quindi quello che vale poco quindi non le ho coltivate ero più preoccupata a fare bene il mio lavoro dove c'era un datore di lavoro che appunto guarda caso era una persona aggressiva e abusiva nei miei confronti mi sono trovata un partner di quel tipo e allora i miei genitori praticamente li ho sostituiti con altre autorità che appunto mi maltrattavano e per le quali io facevo tanta fatica volevo dimostrare di essere all'altezza e aspettavo questo riconoscimento da parte loro che poi veniva non veniva di solito arriva all'inizio e poi sempre meno e allora anche le amicizie che mi sono fatta dopo e credo che la stessa cosa succeda a tutte le donne che validano tanto gli altri e poco se stesse che poi validano tanto una persona quindi se scelgono l'amica si scelgono il partner di quel tipo di un partner che si prenderà tutto lo spazio e non darà molto in cambio allora volevo ricordarti se hai seguito i miei consigli o se forse tu hai fatto nello stesso modo come ho fatto io hai un quaderno dove ti sei segnata tutte le piccole cose strane che sono successe che ti sei ricordata che sono successe o se hai cominciato a scriverle a scrivere il quaderno a riempire il quaderno mentre eri ancora nella relazione le cose che ti succedevano quella volta e forse adesso prima di qualsiasi tipo di risposta a lui quando sei così positiva questa adesso è la novità se sei così positiva andrebbe riletta qualche paginetta di quel quaderno perché potrebbe darsi che rileggendola ti passi la voglia e che tu rimetta i piedi per terra perché va bene essere positivi ma non spietatamente positivi positiva significa ringraziare il cielo che stai di nuovo bene ringraziare l'universo perché finalmente cominci a sentire di nuovo la forza e cominci a sentire l'entusiasmo e cominci ad avere qualche mattina in cui ti svegli di buon umore e questo è super prezioso bisogna appunto proteggerlo proteggerlo e diventare una persona che protegge anche le proprie cose non solo le cose le preziosità altrui allora se tu invece non hai questo quadernino non l'hai scritto si può sempre cominciare sperando che non ti servirà mai perché non ti succederanno mai queste cose allora in questo momento in cui tu sei positiva potrebbero essere due le cose o hai veramente ti sei centrata sei veramente guarita e quindi puoi essere positiva e andare nel mondo a fare qualunque cosa oppure potrebbe darsi che sei positiva perché ti sei messa al sicuro ti sei tirata fuori da quella situazione sei ancora una donna che ama tanto gli altri e poco se stessa e sei positiva semplicemente perché finalmente senti di nuovo l'energia perché stai cominciando a ricostruirti però se sei ancora lì in desequilibrio e ami tanto gli altri in questo caso ti verrà ancora di più la voglia di sentirlo perché hai tutta questa energia e vorresti darla un po' anche a lui è così la situazione è in questo se sei ancora lì basterà poco da parte sua basterà un niente per riavere qualcosa di tuo per riavere la tua energia per anche demoralizzarti se lo vuole per tirarti giù allora solo in questa situazione per assicurarci che non lo sia oppure per aiutarti nel caso tu fossi in questa seconda situazione a parte che anche se sei centrata e la centratura come il disequilibrio non sono cronici non è una cosa che dura senza che tu faccia niente il disequilibrio va mantenuto come il disequilibrio va mantenuto è molto più facile mantenerlo se sei lì cioè una volta che sei centrata è facile mantenere la centratura come quando sei disequilibrata è facile mantenere il disequilibrio quando sei una donna che ama tanto gli altri e poco se stessa è molto difficile avvicinarsi verso il centro dell'equilibrio dove c'è l'equilibrio delle personalità anche nel senso che tu pensi che tu e gli altri valete nello stesso modo il valore è lo stesso quindi il tempo da dedicare agli altri il tempo da dedicare a te è lo stesso cioè bisogna dedicare il tempo a noi stessi agli altri in modo equo e allora invece avvicinarsi quando non la pensi ancora così avvicinarti a questo equilibrio ci vuole lavoro ci vuole sforzo e una volta lì poi sarà facile però non significa che se arriva una persona forte ti manipola per abbastanza tempo non riesca a portarti di nuovo in disequilibrio e la persona con cui eri in disequilibrio con cui si è stata in coppia in disequilibrio per esempio quella persona quella persona se si mette di impegno sarà più facile per lei forse riportante di disequilibrio perché semplicemente si attuano dei meccanismi di abitudine perché una cosa che è sempre successa il cervello la riconosce come comfort zone come una zona conosciuta e quindi si aggancia più facilmente mentre ci potrebbero essere delle situazioni nuove molto positive a cui non ci si aggancia velocemente perché noi siamo fatti in questo modo le cose sicure che abbiamo già sperimentato appunto il cervello le legge come sicure e allora eventualmente le sceglie mentre le novità potrebbero portare qualsiasi cosa e quindi il cervello va molto cauto quindi potrebbe darsi che se sei sempre stato in relazioni abusive appunto sia con amiche che con partner che quando eri piccolo e con i genitori sia molto più facile per il tuo cervello sentirti a tuo agio con una di queste persone piuttosto che con una persona nuova che potrebbe essere la persona più dolce di questo mondo più collaborativa di questo mondo più luminosa e più adatta per te adesso in tutto il mondo però il tuo cervello comunque non lo leggerebbe come una persona di cui fidarti il tuo intuito sì se senti bene il tuo intuito lo leggerebbe così ma se ascolta il tuo cervello il tuo cervello immagazzina le informazioni del passato e quindi valuta le situazioni solo in base al passato quindi anche conosciuto non conosciuto il conosciuto è sempre più è sempre più sicuro secondo il parere del cervello allora se non hai questo quadernino e se in questa situazione in cui sei positiva e non ti sembra niente di male ricontattarlo forse lui ogni tanto ogni tre mesi ogni due mesi ti manda un messaggio e tu di solito gli hai disposto sempre brevemente adesso ti arriva quel messaggio e magari rispondi con una battuta perché sei di buon umore e magari gli chiedi come va perché sei di buon umore e una persona che ama gli altri quando è di buon umore vuole condividere questo buon umore vuole arricchire anche le altre persone ti ricordo che arricchire lui potrebbe anche significare perdere l'energia e non averla mai più indietro ma non solo questo questo sarebbe il minimo nessun problema se tu adesso ti ricarichi da sola grazie alla primavera grazie alle giornate ma potrebbe darsi che con lui quella energia o questo contatto che tra di voi potrebbe usarlo per ferirti e allora lì si che si perde l'energia attraverso le ferite allora stavo dicendo che se non hai questo quadernino che non ti sei organizzata in quel periodo in cui stavi male male malissimo forse potrei ricordarti io di qualcosa che è successo e forse non è successo a te ma forse anche sì perché questi esseri bizzarri che chiamo alieni si comportano più o meno tutti lo stesso modo quindi forse ti ricordi anche se non hai il quadernino forse se ce ne avessi dentro ci sarebbero anche queste scene per esempio quando tu parlavi di qualcosa di tuo e lui non ti ascoltava forse ti ricordi quanto era entusiasta lui quando ti parlava delle sue cose quando ti parlava delle sue cose era si accendeva in viso e gesticolava era preso e ti guardava negli occhi e poi si ricordava di una situazione e te la descriveva poi quando tu parlavi di qualcosa di tuo lui ti guardava fermo oppure sai se eravate in un locale era preso quando ti raccontava le cose tue e poi quando tu gli raccontavi qualcosa di tuo invece sai era il momento di ah il cameriere sai aveva tante altre cose da sistemare perché quando parlavi tu era come il tempo libero c'era ah guarda passa qualcuno ciao sai quando tu gli parlavi lui salutava chiamava il cameriere ti chiedeva vuoi ancora un'acqua scusami scusami se ti ho interrotto però ho capito ma se tu stavi raccontando qualcosa lui quando racconta qualcosa di sé è tutto preso il discorso va e non si perde un secondo di quello che sta dicendo mentre quando racconti tu ti passa anche la voglia quando fa così perché magari oppure gli suona il cellulare quando arrivano i messaggi fa quando parla lui non li sente nemmeno quando parli tu magari guarda anche guarda il cellulare come si fa ok ti volevo ricordare questa cosa ti volevo ricordare che quelle volte che magari ti ha anche chiesto ti ha fatto lui una domanda e poi quello che l'ha risposto non l'ha sentito oppure per esempio ti ha chiesto un consiglio lui parlava di una situazione chiamiamola situazione A il lavoro un evento al lavoro situazione A e lui ti ha detto avremo bisogno di pubblicità di solito facciamo i volantini quindi era la situazione A con B elemento B volantini quindi lui ha detto A B e tu ovviamente hai risposto A B perché hai parlato non è che ti sei messa a parlare delle vacanze hai parlato di questo A evento che vogliono organizzare e che i volantini non ti sembrano una buona idea per esempio quindi A B e poi hai aggiunto C hai detto secondo me le locandine forse meglio oppure un video su Facebook un video proporzionale fatto bene che la gente poi fa girare su Facebook allora tu hai aggiunto un C no un C e un D quindi locandine e video Facebook e lui invece di come tutte le persone farebbero risponderti su A B C D oppure A scartare i volantini e parlare di quello che hai detto tu C D lui invece parla di nuovo di A B oppure dice A F qualcosa di senza senza mai dire tipo no sai le locandine abbiamo provato oppure no sai Facebook no cioè non ti risponde sul tuo lui ha parlato di volantini tu hai parlato di locandine e di video e poi lui dice sai perché i volantini e poi non dice mai niente allora non si percepisce hai capito le piccole cose di cui parlo sempre io non si percepisce se qualcuno ascolta questa conversazione non gli sembra che sia successo niente di niente di male niente di strano niente che possa ferire qualcuno perché quando sei in una situazione abusiva o in una relazione abusiva dove è ancora più pericoloso perché tu sei aperta il cuore è aperto verso l'altra persona questo che è invisibile non lo sai neanche tu che è successo è un attacco ti provoca una ferita perché non è normale il tuo cervello forse lo percepisce il tuo sistema di guida forse lo percepisce e più sarà pulito più sarà più sarai connessa più sarai non volevo dire attenta perché quando hai un GPS che funziona non c'è bisogno di essere attenti lo senti subito è lui che cattura la tua attenzione perché comincia a farti male lo stomaco per esempio ti si chiude lo stomaco o ti sembra di soffocare di non riuscire più a respirare sono tutte sensazioni che sono un segnale di allarme che qualcosa è stato fatto che non è giusto infatti se lui ti parla di una cosa ti chiede un consiglio tu gli rispondi e lui dopo continua a parlare come se tu non avessi mai parlato quello che ti sta comunicando a livello subliminale quindi non neanche non ce ne accorgiamo è che tu non esisti neanche che la tua idea è pessima perché ti direbbe ma figurati cioè è meglio uno che ti dice ma che idea pessima le locandine ma cosa stai dicendo i video su facebook che cavolata stai dicendo cioè meglio così questo uno lo percebe da fuori guarderebbe direbbe oh guarda gli ha chiesto un consiglio e adesso la sta praticamente maltrattando con le parole e sarebbe evidente che è un attacco diciamo invece questo quando lui non ti risponde sul tuo ma continua sul suo e non nomina mai più le locandine e i video significa che che non esisti non sei è peggio di non essere all'altezza è peggio di aver detto una cosa sbagliata di non avere delle belle idee non esistere non esistere e non si vede hai capito visto da fuori e non si vede neanche forse visto da dentro anche quando tu partecipi a questo colloquio se non sei molto attenta se non sei molto pronta a difenderti sai quanto vali e dai importanza tu a quello che hai detto e quando sei una donna che dà importanza tanto alle altre persone e poco a se stessa in queste situazioni la tua autostima viene ferita tantissimo il suggerimento che lui ti dà in quel momento è che tu non solo non vali non esisti ecco che qui viene a mancare se questo succede ogni giorno più volte nel tempo se continua questo trattamento la tua individualità va a farsi friggere nel senso che tu la lasci andare tu credi a lui di non esistere diventi sempre più una persona amorfa e boh non ne voglio neanche parlare adesso però era per ricordarti quindi ricordati queste situazioni quando lui ti tratta come se tu non esistessi non rispondi alle tue domande sai quelle volte non so se ti è successo ti scrive sempre ti manda una foto ti manda un bacino sono tutte cose amorevoli e tu li rispondi sempre quando gli mandi qualcosa tu una richiesta tu non ti risponde cioè questa cosa significa che non esisti oppure vi sentite quando tu gli parli di qualcosa che lui interessa ti risponde se chiedi un consiglio per te fine non ti risponde allora ti volevo ricordare queste cose ti volevo anche far presente che se tu hai fatto veramente del lavoro su te stessa e sei diventata una persona che si valida di più se lui non ha fatto lo stesso lavoro nel senso per avvicinarsi al centro dell'equilibrio quando io mostro la padella adesso non ce l'ho con me però se tu ti avvicini dalla parte tua verso il centro quindi risali di solito io lo metto in questa proporzione lui sopra tu sotto e lui se non fa lo stesso lavoro di riscendere un po' nel senso avvicinarsi nel centro dell'equilibrio che converrebbe anche a lui perché al centro dell'equilibrio ci si sente bene lui lì non si sente bene vicino al confine e allora però lui non fa questo lavoro finché non che ne so perché non lo fa adesso non voglio parlare con lui però quando tu fai il lavoro su di te e dopo se dovreste incontrarvi non gli piaceresti più non gli piaceresti più perché penserebbe che sei che parli troppo di te che sei troppo arrogante perché a lui vanno bene le persone che fanno da pubblico le persone che non ci mettono del proprio che lo seguono e basta allora se tu hai acquisito veramente forza nel modo giusto che ti sei proprio avvicinata al centro e che sei stabilmente più vicino al centro tu adesso anche ti immagini delle scene bellissime con lui che bello potrebbe essere rivedersi adesso che stai meglio forse hai capito che lui non c'entra lui è una persona così positiva e tu vorresti collaborare di nuovo magari avete lasciato un progetto a metà oppure hai lasciato hai lasciato a lui quel progetto che facevate insieme ovviamente poi tu ti sei tolta e quindi quel progetto adesso continua vorresti di nuovo partecipare perché ti senti meglio sei positiva allora tieni in considerazione anche questa cosa che potresti non piacergli più bene allora per concludere questo video volevo ricordarti di qualcosa che ho già se hai sentito forse non l'hai sentito consigliato che secondo me è un esercizio molto valido l'idea è di Baden Powell che diceva di pensare bene anzi il meglio di qualsiasi persona devono essere le cose vere non pensare le cose fantasiose ma quando ti ricordi di una persona pensare le sue cose quelle che tu hai visto che sono le migliori sue il suo modo di fare quello che ha realizzato tutte le cose positive di quella persona e questo se sei positiva lo stai già facendo e la seconda parte però dell'esercizio che lui proponeva è di aspettarsi il peggio da quella persona non il peggio in assoluto tipo che potrebbe fare qualcosa di male che lei invece non sarebbe in grado ma proprio il peggio di quello che per come la conosci di nuovo qualcosa di reale per quella persona è aspettarsi il peggio il peggio che puoi aspettarti da quella persona e questo soprattutto in questa situazione in cui hai di nuovo voglia di sentirlo potrebbe essere molto molto utile allora un'ultima cosa che potresti fare se ancora vuoi contattarlo o se ti sembra ancora una buona idea invece di rispondergli brevemente di rispondergli qualcosa di più carino e forse anche chiedergli come sta in fondo da un anno che non vi sentite e magari dai messaggi percepisci che è un po' giù e che li manchi allora un'altra cosa che puoi fare se ancora non sei se ancora hai questa tentazione di rispondere una cosa lunga allora sì ok forse è la cosa giusta nel caso non fosse la cosa giusta e ti dovresti ritrovare ferita e perdere il buon umore che hai come ne sei uscita la prima volta ne uscirai anche la seconda l'importante è non giocare con queste cose ma prenderle estremamente però ecco sappi che adesso se vuoi sperimentare siamo qui sulla terra anche per sperimentare e quindi tutte insieme ci stiamo aiutando se per caso dovresti perdere il buon umore come l'hai riconquistato questa volta l'oro riconquisterai ancora e allora volevo consigliarti appunto l'ultima cosa io ho un video che si chiama come parlare in narcisiano mi sembra e allora prima di contattarlo vai a vedere anche quel video così almeno se proprio ci tieni a parlare con lui di almeno di dire le cose giuste di sapere chi hai di fronte e come trattarlo perché ricordiamoci se sei qui a guardare questo video con qualcosa ti sei scottata allora maneggiare quei rapporti con cura ti mando un bacio e ti auguro un'ottima giornata grazie a tutti